Tutti sanno che con la robotica si possono fare manovre ricostruttive complesse che con la paroscopia ed endoscopia non si possono fare. Abbiamo raccolto questi filmati, alcuni anche divertenti e interessanti, che si trovano su Robodarinci, che descrivono proprio questo fatto tecnico. Gli strumenti dei Robodarinci permettono di fare delle cose che gli strumenti laparoscopici e che gli strumenti non permettono di fare. Guardiamo sempre questo filmato. Abbiamo integrato ciò che abbiamo appenapposto da nostri clienti e ciò che i nostri team di design hanno inventato. E ora siamo orgogliosi di presentare il DAVINCI XI. Il DAVINCI XI è il nostro quarto generale di DAVINCI XI, e ha in it over 20 anni di lavoro di crescita, come iniziare a migliorare l'evoluzione per creare un'attività naturale dell'evoluzione dell'evoluzione e dell'evoluzione dell'evoluzione. Questo nuovo prodotto features fast quadrante quadrante surgery, abbastanza migliorare visione, e è un'attività per tutti i nostri tecnologi. Point the endoscope at the surgical site, press the targeting button, and the system will configure itself into the optimal position for the procedure. The new endoscope is much easier to use. No more draping, calibration, white balance. You just plug it in and go. With this new architecture, you can put the scope in any one of the arms, and it gives you a lot more flexibility and setup. At Intuitive, we strive to create the safest, least invasive option for surgery, and we believe deeply that minimally invasive surgery should be the standard of care, and we work hard every day to make that a reality. We'll be right back. 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 We'll be right back.